Io ho nato per il Fornelli successo importante, si è arrivata una vittoria pesante in chiave salvezza, ripartendo da questa prestazione salvezza alla portata. Assolutamente sì, gara molto complicata perché affrontavamo una squadra che lotta come noi per la salvezza. La partita è stata giocata in trasferta quindi su un campo che quando si gioca fuori è sempre più difficile. Abbiamo ottenuto il massimo risultato e siamo contenti così. Prestazione positiva da parte vostra, siete andati sotto ma avete reagito da grande squadra. Assolutamente sì, è lo spirito che ci portiamo avanti da qualche anno, quello di non mollare mai. Infatti sull'1-0 ci abbiamo creduto, con qualche strascico però la partita è andata come doveva e questo è l'importante. Dal punto di vista personale, è soddisfatto del tuo rendimento in questa stagione? Poco, devo dire la verità, poco. Però c'è sempre modo di migliorare, ci sono ancora altre partite e darò il massimo fino alla fine della stagione per ottenere l'obiettivo e anche a livello personale per avere qualche altra soddisfazione in più. iscriviti al canale Grazie a tutti.